Ciao a tutti, oggi prepareremo la quiche pesto, ricotte e pomodori. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono una dose di pasta brisè, ricotta fresca, pomodorini, pesto, uova, grana grattugiato, sale, pepe, basilico, origano e scaglie di grana. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la ricotta, uova, grana, pepe, il sale. Ed azioniamo i brilli per 50 secondi a velocità a 4. Il composto è pronto, adesso andremo a comporre la nostra quiche. Settiamo sulla base il pesto. Riveliamo bene. Versiamo il composto di ricotta. Aggiungiamo i pomodorini, polverizziamo con un po' di origano, cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-35 minuti circa. La quiche è cotta, marmiamola con scaglie di parmigiano, olio di basilico. Lasciamola inquietitire prima di rimuovere dallo stampo. Pesto, ricotta e pomodori. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.